LPG Systems, nome di riferimento nel mondo dell'estetica professionale, è una società nata in Francia e conosciuta per la sua metodica Endermologie, messa a punto e brevettata dal fondatore dell'azienda, Louis Paul Guitté, che nel 1986 realizzò un meccanismo composto da rulli motorizzati e da un'aspirazione in grado di mobilizzare la cute in modo regolare e sistematico, come valida alternativa al tradizionale massaggio manuale. Questa particolare tecnica permette di riattivare la circolazione, migliorare il ritorno linfatico e stimolare le cellule del tessuto connettivo, in particolare gli adipociti e i fibroblasti. Le metodiche di trattamento derivate da Endermologie, Lipomassage per il corpo ed Endermolift per il viso garantiscono risultati estetici ottimali. Dai trattamenti terapeutici su problematiche vascolari e linfologiche, le conoscenze scientifiche di LPG hanno portato all'applicazione dei trattamenti di questo tipo in campo estetico. Tuttavia, è importante l'identificazione di controindicazioni a questa specifica tecnica di massaggio, come per esempio la gravidanza, la presenza di tumori o malattie, oppure condizioni postchirurgiche vascolari o interventi di chirurgia plastica. Per la corretta applicazione dei trattamenti estetici, come per i terapeutici, è importante la valutazione iniziale delle condizioni di salute del cliente durante la consulenza, che attraverso la compilazione di una specifica schiera deve porre in risalto le motivazioni che avvicinano il cliente alla metodica LPG, così come la presenza di controindicazioni assolute o relative a Endermologie. Per ogni tipo di tessuto da trattare, viene fatta una scelta di un manipolo e di un protocollo di trattamento specifico, per un approccio tessitale assolutamente personalizzato, con dei rulli motorizzati indipendenti che creano fliche cutanee superficiali o profonde, con movimenti di roll per il corpo, oppure alette che mobilizzano in modo estremamente delicato l'acute sensibile, con i gesti del lift per il viso, il collo e il décolleté. La metodica soddisfa le esigenite di benessere di un ampio target di uomini e donne, che desiderano migliorare la propria siluette, riattivare il metabolismo tessitale con azione pro-lipolitica, di scissione dei grassi, e pro-fibroblastica, di stimolazione del collagene, con incremento di produzione di collagene ed elastina. Il tutto in una prospettiva di rieducazione tessutale, cellulare, extracellulare, venolinfatica, assolutamente naturale e non invasiva.